Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni di più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Sotto gli occhi di tutti il fatto che siamo nell'era della mediocrità, per lo più. Com'è possibile? Come ci siamo arrivati? È perché l'assenza di sogni poi è una cosa che porta a conseguenze concrete. La concretezza. Il fatto che oggi uno non sa nemmeno che cosa gli piace fare più che che cosa vorrebbe, a cosa ambisce. Il fatto che oggi non si guardano più le stelle, non si punta più ad arrivare lì. Non si ha il coraggio di dire, oh io ci provo, oh chi se ne frega del risultato. Io ci metto tutto me stesso. Il fatto che non si va ad allenarsi perché si vuol diventare degli atleti sportivi agonistici, ma per un fattore propriamente estetico. Il fatto che si va a studiare qualcosina perché boh mi piace que, mi piace quell'altro, è utile. Cioè, economia, vorrei guadagnare due soldi. Il fatto che siamo portati ad essere capitalizzati, appunto. È tutto questo. È il problema. Ragazzi, è un problema enorme che ovviamente deriva sempre da loro, dai genitori. I genitori che ancora si pensano che stiamo alla crisi di Wall Street, alla crisi del 2008, 2009. Ancora non hanno capito che lo status con cui loro sono cresciuti, con cui sono stati abituati, non esiste più. Tuttavia non riescono a fermarsi, non riescono. È una macchina fortissima, implacabile, che vada questi giovani e li mettono a terra come a suon di ricatti emotivi. Io sono con te, io ti supporto, io ti do tutto quello di cui hai bisogno a te, figlio giovane, che magari sei appena diplomato, ma prima, prima prendi il titolo di studio e poi ti faccio andare fuori e ti finanzio tutto. Ragazzi, 19, 20 anni, lo so, non è facile? Non è facile. Io vi porto nel cuore, vi voglio bene, vi rispetto, vi stimo. Ma dovete imporvi. Dovete dire, io non ti consento questo comportamento. Il ricatto emotivo non lo voglio. Per fare in modo che accada questo bisogna essere consapevoli. Fortunatamente i mezzi oggi ci sono per iniziare a esserlo. Ci possiamo informare. Possiamo piano piano combattere un sistema folle. Possiamo andare per la nostra strada. Perché oggi purtroppo un ragazzo che dichiara un sogno viene snobbato. Anche prima, anche prima, è sempre accaduto. Però adesso cosa abbiamo? Abbiamo le conseguenze. Quindi abbiamo comunque una prospettiva più ampia. Persone che nella vita hanno guadagnato 1.200, 1.300 euro tutta la loro vita sono state appiccicate a, chiamiamolo un posto fisso, ma è molto relativo, o comunque un qualcosa che teoricamente dà certezze. Persone che hanno fatto una vita brutta, poco divertente. Persone che stanno a dire agli altri come devono vivere, come devono comportarsi. Ma il percorso di vita è unico per ognuno di noi. Ciò che è giusto per me non è ciò che è giusto per te. Però se io ti racconto la mia verità e tu mi racconti la mia, allora io posso capire, uno, dalla tua storia, che cosa potrebbe combaciare con la mia, e due, soprattutto, cosa non potrebbe combaciare mai. E allora ciò che diventa giusto per me può essere utile per te, anche se non è giusto. Ma non c'è un'imposizione, c'è un confronto diretto, senza troppe cazzate. Perché si arriva alla mediocrità? Perché che succede? Che quando un ragazzo parte per un progetto di vita, un sogno, che magari non si realizzerà mai, ma che porterà consapevolezze nel percorso, perché un ragazzo che le prova tutte e poi si rende conto che non è aria, è una persona libera, diventerà un uomo libero, libero di innanzitutto trovare una via di mezzo. Cioè io non rinuncio, non è che mi butto direttamente nel contesto che mi viene venduto a 19-20 anni, ma magari ne scelgo uno che non è quello che volevo. Però è sicuramente una cosa che mi appartiene. Come è stato il podcast per me? Il mio lavoro è qui, parlare. Un lavoro meraviglioso di espressione, ma quando avevo 14-15 anni, 16 anni, non esistevano neanche i podcast. Come potevo sapere che sarebbe stato il mio lavoro? Però avevo altre ambizioni, avevo altre cose, cose che oggi magari sono fuori. Non so, per tanti anni di adolescenza volevo fare il cantante, volevo fare il rapper, perché in quel momento il rap era la vera ribellione, la rivoluzione. Oggi mi vergognerei ad essere definito tale per com'è andata la mia vita. Però grazie al fatto che comunque io mi facevo i video, facevo le canzoni, scrivevo in versi. Cioè io ho scritto centinaia di canzoni in versi, questo mi ha dato una capacità. E oggi se sono anche più portato di altri nello scrivere drammaturgie, nell'esprimermi, è perché comunque, cazzo, ho scritto in versi tanti anni. E la musica mi ha aiutato, la regia, i primi video l'ho fatti in quel modo. E oggi, cazzo, porco Giuda, faccio spettacoli, faccio progetti di regia. E questo è partito da lì. Quindi nel senso, non tappiamo sempre le ali, perché possiamo trovare tante cose nel nostro tracciato, nel nostro percorso, che possono essere utili poi per un percorso futuro. Lo studio di recitazione, faccio l'attore? No, non mi interessa farlo. Però, quando è stato importante studiare d'attore per poter lavorare al meglio nel mio podcast? Eh, eh, raga, lo so io, lo so io. Mi dicevo, mazza quanto parli bene, sei bravo, tecnico, papà, papà, eh, sì. E ho fatto il mio percorso per arrivarci, eccetera, eccetera. Quindi si arriva alla mediocrità, perché uno parte e dice, ok, voglio fare questa cosa qui, ma c'hai gufi attorno, che ti... Ah, quindi quando arriva il giorno in cui c'hai la difficoltà, perché tutto è difficile, ti lamenti magari col genitore di turno e, ops, eh, vedi, allora dai, torna qua, mamma, torna a casa, che stai a fa' là? Ma che stai a fa'? Eh, che stai a fa'? Il momento in cui devi tirare duro, che devi comunque dimostrare, è lì che ti caghi addosso. E allora si riparte, si ritorna e... No, eh, ci ho provato, sai no, hai fatto due ore, io non ce la faccio più a stare in sta casa. Tra la mia madre che sta' spacca tutto mentre pulisce i piatti, in modo che passano. Sopra con le sedi, io non ce la faccio più, ma non è inutile che faccio stacchi, cose. Mannaggia la nosca, 30 anni, mi ritrovo ogni cazzo d'estate a casa qua in mezzo da merda. Quando sto a Roma c'ho i cazzo delle auto, c'ho via Ostienze sulla sinistra, quindi capirete. Cioè, uno dice, ma può essere un bevè in ufficio, eh. Che cazzo, eh, posso spendere, eh. Mi piace quel, la mia assa, il mio microfono, il mio computer, non mi piace esprimermi. Però, avanti, situazione pregaria. Io ho fatturato 51 mila euro l'anno scorso con sta roba, quindi non è che dici, stiamo a cazzeggiare. Però, eh, ognuno si deve accontentare. E qua mi viene in mente un'altra cosa. Quando, eh, oggi si usa fare nuovi video backstage, i video documentari, i video, la gente fa gli editing per farli sembrare fatti con macchinette da 100 euro. Ma sono girati con macchinette da migliaia di euro, porco Giuda. Mi ricordo quando nel 2015-2016 facevamo i video come potevamo. E, no, tutti quanti, bisogna essere professionali, bisogna prendere la videocamera fatta bene. Il videomaker, centinaia di euro di gente che ha speso in videomaker, in studio. Gente che faceva canzoni, spendeva mille euro per far uscire un singolo indipendente su YouTube. Cosa che abbiamo fatto sempre a zero budget, curandoci noi tutto. E anche se magari il suono non era quello della major, ma era personalizzato, era nostro, il video era nostro. Il prodotto non era mediocre dal punto di vista pratico. Era vero, era talmente vero, che non c'era mediocrità. Era questo il discorso. Oggi non ci possiamo perdere. Immaginate se ogni volta che devo registrare, prendo, vado in studio, esce un altro prodotto. Ma vado a perdere di verità. Il mio monologato è questo, essenzialmente. Solo questo. Quindi sono delle scelte. Le scelte mi fanno incazzare, ma è la mia rabbia quella che vi do. La rabbia di una generazione. Eh, io mi sono rotto i coglioni di sentire la gente che si imbastisce di retorica. Si riempie di cazzate nella vita. Ma è fino a che uno c'ha 30, 40 anni. Ma cazzi, i tuoi. Ma gli under 25 mi fanno incazzare come una bestia. E poi basta che uno fa la minima cosa e almeno ci sta provando. Eh sì, magari 30.000 persone stanno a dire che sei un coglione. Almeno ci sta provando. Nella vita non si può provare. La vita si riuscì. Quando si fanno le cose. Ma riuscire non vuol dire vincere. Ok? Io non sto dicendo sali sul ring e vinci. Sto dicendo sali su quel cazzo di ring e battiti con tutto te stesso. Quella è la vittoria.